buongiorno e bentornati dal vostro produttore di fiducia per un video della serie doppi e diretti un nuovo video mi raccomando seguiteci anche la playlist sto cercando di trasmettere le nostre esperienze sempre in maniera diretta per dare più contenuti possibili nonostante il mio tempo sia abbastanza ridotto ora in primavera con l'arrivo della primavera si spera perché si vede anche la luce che anche se siamo di buon mattino però la luce non è delle migliori infatti è una prima un inizio primavera un pochettino brutto allora siamo nel settore nella nostra serra se vogliamo piccola serra di demetrio f1 e sarebbe un meidi plum ok a frutto rosso e questo è uno dei punti più diciamo dove ci sono più problemi ora andiamo ad analizzare sempre tutta la situazione come facciamo ogni volta e vediamo un po e che nonostante tutto ci sono delle cose notevoli e molto interessanti da andare a vedere quindi andiamo subito ad analizzare come vediamo c'è una certa fruttificazione se diamo uno sguardo così una panoramica siamo già abbiamo raccolto 4 5 grappoli e ancora la pianta continua a fruttificare ma ma ci sono dei problemi anche abbastanza grossi dovuti a sempre direi che il tema attualmente gli effetti del freddo insomma i danni dovuti al freddo qui abbiamo una casetta dei bombi quella un po più vecchiotta abbiamo messo un'altra guardate qui vicino alle parti perimetrali dove la pianta respira meglio prende più aria ci sono grappoli molto più importanti anche come pezzatura dei frutti non solo come quantità di frutti questa è l'altra casetta stanno perdendo qualcosa il liquido che c'è all'interno quali sono i problemi allora intanto vediamo cosa andiamo a vedere un po la panoramica anche qui abbiamo il solito sesto di impianto se vogliamo quindi 60 cm sulla fila e tra file un metro però sempre la passarella è fatta un metro e venti e nel mezzo 80 cm anche questo è un pomodoro innestato ed è era già cimato quindi innestato e cimato questo vuol dire che parte della pianta poi viene lasciata a due vedete questa femminella che è così strana questa qui oltre ci sono anche danni da tuta e sta iniziando la tuta siamo molto indietro con i trattamenti da quasi un mese che non facciamo trattamenti abbiamo avuto molti imprevisti e scusate c'è un po di vento qui magari ora ci spostiamo sì meglio che ci spostiamo quindi questa pianta era già le piantine cimate quindi piantine cimate ok poi siamo arrivati a un'altezza così sempre un po in obliquo come vedete la pianta è stata legata in obliquo non tantissimo però perché giustamente qui il peso c'è e non conviene metterla troppo in orizzontale perché sono discende solo con la forza del filo che noi non utilizziamo clip per mantenere la pianta giusto siamo arrivati più o meno a una certa altezza e abbiamo cimato nuovamente quindi le due branche della nostra pianta quando sono arrivati a circa due metri e mezzo di altezza le abbiamo cimate e nuovamente la pianta ha fatto altre femminelle come vediamo in questo caso vedete questa è la parte dove è stata cimata e sono partite altre femminelle che già sono molto robuste vuol dire che la pianta comunque si anche si vede dal colore della foglia ha una certa forza c'è stato un forte stress ora abbiamo tolto le foglie però qualcuna vecchia c'è ancora andiamo a vedere che alcune piante soprattutto rispetto ad altre vedete questa foglia che colorazioni che ha c'è stato lo stress quindi lo ha manifestato ecco qualche foglia più in basso vediamo che ci sono stati problemi e continuano a esserci le piante quelle un po più deboli vedete anche presentano il famoso la famosa sofferenza che si vede dal peduncolo dei pomodori va bene invece ovviamente quelle più scure piante hanno ecco tutto un altro status insomma anche i frutti sono migliori questa debolezza in cosa si è trasformato in malattie come abbiamo già detto nell'episodio precedente le piante quelle più deboli durante il periodo invernale da noi quest'anno è stato anche abbastanza se vogliamo gelido perché appunto ci sono state le gelate vediamo che c'è la comparsa delle malattie più o meno gravi qua questa è peronospora quindi una malattia gravissima vediamo che ha colpito addirittura il fusto però la nostra pianta sta continuando grazie ai trattamenti vi ricordo di andare a vedere c'è un video dedicato proprio al nostro piano di trattamenti vi ricordo bio quindi con prodotti consentiti in agricoltura biologica se andate a guardare in descrizione troverete il link a questo video e ad altri molto importanti c'è anche il blog dove ci sono delle schede proprio di come andare a utilizzare questi prodotti quindi vi dovete intanto iscrivere al canale se non lo avete già fatto ovviamente e date un'occhiata anche a tutto il resto ci sono sempre cose molto interessanti riguardo l'agricoltura naturale quindi vediamo sto dicendo che i problemi ci sono neanche grossi alcune piante sono state magari colpite in maniera peggiore vedete qui la peronospora ha compromesso anche i frutti questi si possono anche andare a togliere qui l'operatore che è passato in questi filari non era uno dei migliori sicuramente vediamo che qui la pianta è un po più giallina quindi vuol dire che non sappiamo se riuscirà a sopravvivere a questo livello di malattia però se la tocchiamo all'interno è molto piena quindi non si sa mai cosa può succedere si vede che la malattia è ferma perché non ci sono spore vediamo è completamente secco non ci sono spore vedete all'interno la pianta è verde anche questa femminella mezza morta stava facendo i frutti quindi ovviamente i trattamenti sono stati efficaci hanno bloccato le malattie ahimè dopo le gelate e dove c'erano le scottature soprattutto da freddo può succedere poi se abbiamo un clima con diciamo nuvoloso con poca esposizione alla luce sappiamo che le malattie fungine con le temperature bassine quando la pianta appunto si muove come diciamo noi si muove lentamente termini tecnici possono avere vita facile ecco nelle sempre nelle piante deboli perché se noi andiamo a vedere tutte le piante sane quindi con una colorazione adeguata perché ovviamente ci sono anche tutte le varie fertilizzazioni quindi concimazione sia a livello radicale che a livello fogliare per mantenere più in salute possibile la nostra pianta ripeto in inverno che è dura per il pomodoro che giustamente in inverno non è il suo diciamo mese preferire non è la sua stagione preferita volevo dire cose volevo fare vedere vediamo che c'è stato un discreto aumento delle temperature qui siamo come dicevo poco fa quasi a quattro settimane senza fare trattamenti e vediamo che c'è l'operato della tuta assoluta sta iniziando e dovremmo iniziare a trattare pure noi ma io vi consiglio sempre voi di fare i trattamenti almeno ogni 10 giorni però noi non ci riusciamo sempre qui non so se riuscirò a vedere se c'è la larva all'interno ma mi sa di no giustamente dopo tutto questo tempo però se vogliamo ancora c'è una foglia qui e una foglia là e no non è una cosa grave bene per il resto stavo dicendo per concludere questo video doppio diretto quindi abbiamo cimato la pianta e sembra continuare bene vedete l'abbiamo cimata perché era in forte stress ecco questo è il punto vedete c'è sempre c'è in questo punto mi sono messo qui appositamente c'è veramente tanto problemi si sono stati con le malattie però la pianta tutto sommato grazie a questa tecnica di doppia cimatura quindi è arrivato a una certa altezza la parte apicale l'abbiamo torta e abbiamo fatto continuare le femminelle che sempre tendenzialmente sono meno irrigidite ok quindi va bene per fare il nuovo come si dice fare continuare la pianta in maniera più se vogliamo ottimale e ci siamo dai qualcosa sta accadendo vediamo quelle femminelle magari alcune sono più sottili poiché appunto provengono da una pianta già abbastanza approvata da tante cose però continua la pianta a fruttificare vedete le piante anche se hanno problemi grossi sempre qui abbiamo peronospora guardate che continuano a fruttificare e abbiamo buone speranze per una mezza campagna primaverile anche ovviamente questo pomodoro è stato trapiantato in ottobre giusto sì ma è la seconda settimana di ottobre non ci possiamo aspettare di arrivare fino al prossimo ottobre in questa situazione ecco potrebbe succedere in condizioni più ottimali ma con questa annata così gelida e soprattutto sbalzi di temperatura molto grossi molti colleghi si lamentano appunto di questo va bene io vi ringrazio a tutti come sempre è stato un piacere essere qui con voi e dai ci vediamo al prossimo video mi raccomando continuate a fare i bravi i picciotti grazie a tutti grazie a tutti